La prima puntata della Fiction Sirene, andrà in onda giovedì 26 ottobre 2017 alle ore 21 e 25. Anticipazioni. Le quattro sirene oltre a cercare Ares, fidanzato di Yara, stanno cercando anche un nuovo posto dove insediarsi. Le protagoniste vogliono garantire il proseguo della loro specie e per rendere ciò possibile hanno bisogno di ragazzi che si innamorino di loro. Presto però le sirene si renderanno conto che i napoletani hanno un certo fascino, per cui saranno loro ad innamorarsi di alcuni ragazzi. Diversi quindi saranno gli ostacoli che dovranno superare ed affrontare e la trama diventerà gradualmente molto avvincente. La trama di Cross Productions scrive, esistono solo due posti sulla terra dove sirene e tritoni possano vivere, uno è New York, l'altro è Napoli. Sirene è una commedia sentimentale in cui il mare e la terra vengono coinvolti nella battaglia più antica del mondo, quella tra maschi e femmine. Le sirene sono arrivate sulla terra per dare un futuro alla propria specie e incantare gli uomini con la propria magia, ma saranno i maschi in realtà a conquistarle con la loro passionalità. Ecco il cast della nuova fiction di Casa Rai, dal prossimo giovedì sera. La regia è di Davide Marengo. Il cast sarà costituito dagli attori Luca Argentero, Maria Pia Calzone, Ornella Muti, Valentina Bellè, Denise Dantucci, Massimiliano Gallo, Michele Morrone, Monica Nappo.